Dalla collaborazione tra Samsung e chi conosce Bebecker, primo sistema che permette di rilevare i movimenti del bambino e di inviare notifiche ai genitori attraverso i device del mondo Samsung sia durante gli spostamenti in auto che durante la vita quotidiana in casa. Il sistema potrebbe mettere fine ai casi di bambini dimenticati in auto dai genitori con conseguenze spesso fatali. Samsung e Kikko presentano Bebecker, l'innovativo sistema che invia le notifiche al tuo smartphone avvisandoti della presenza di tuo figlio in auto grazie ai sensori integrati nel seggiolino Kikko Around You. Mentre in casa, Bebecker rileva i movimenti del tuo bimbo nel lettino inviando le notifiche ai tuoi prodotti dell'ecosistema Samsung grazie ai sensori collegati alla telecamera Gear 360. Così la tua attenzione sarà richiamata quando necessario.